Riproviamo ad andare a fare un giro in bici, sunscreen, vediamo se riusciamo a prendere la pioggia anche oggi. Il cielo promette bene, però non si può mai sapere. Abbiamo preso due felpe, due keyway e la protezione 50, perché in Belgio devi essere pronto a tutto. Ci sono poche cose che mi rilassano come girare in bici qui. La pace, il verde, quelle strade che si riempiono di suoni della natura, il vento in faccia. Siamo bene? In Belgio piove spesso, per questo il sole ha una forza diversa qui, una forza che ti scalda l'animo. Abbiamo una salita, prendiamo un po' di velocità. C'è un'energia diversa, un'energia che non c'è da noi, quella di sapere apprezzare ogni seconda di solo. Guarda che bel posto è. Sì. Abbiamo provato a fare delle foto, ma... Male, male. Elimina. I feel bad about myself now.